Tanti eventi in arrivo con il Natale in città, questo fine settimana. Dopo il successo del laboratorio creativo in Piazza 20 Settembre, Giulia Artico domani si sposterà in Largo Cervignano con un laboratorio per ragazzi. Anche quest'anno siamo in Piazza 20 Settembre con il consueto laboratorio dei presepi. Ricordo che è un laboratorio per famiglie e bambini per riuscire a ricostruire un presepe da portarsi a casa. I bimbi qua con le famiglie ricostruiscono un piccolo presepe. Insieme al papà mettono insieme i pezzettini per costruire le statuette ed avere un presepe fatto con le loro mani. Ha tutto un altro valore. Diversi gli appuntamenti con l'arte per grandi e piccini. Questa sera in Galleria Bertoia Carla Manzon leggerà poesie e racconti di Pordenone e Montanari, attorniata dalle sue opere in mostra. Domenica pomeriggio bambini e famiglie potranno partecipare al laboratorio di fotografia creativa in Galleria Pizzinato, collegato alla mostra in corso Yume, sogni giapponesi, mentre al Museo Civico d'Arte i Papu, nei loro sproloqui d'inverno, illustreranno gli affreschi del palazzo. Dopo il concerto dei camerieri italiani, la musica continua in Piazza 20 Settembre, domenica, con le fanfare bersaglieresche al mattino ed il concerto Looking for Christmas, con tre belle voci femminili a cura del CEM.